Ciao, io sono Aghi Bergen e sono docente di mixing qui a Fonderie Sonore. Il mixing è quel processo di ottimizzazione e bilanciamento degli elementi che compongono un brano musicale. È l'insieme di tutte le operazioni svolte sul materiale facente parte della produzione stessa, al fine di rendere coeso e strutturato il suono finale. Le scelte fatte in mixing sono volte alla migliore interazione tra le singole tracce che compongono il brano stesso e sono detti stems. Questi stems vengono trattati con interventi correttivi mirati e di caratterizzazione timbrica contestuale, in modo che le molteplici frequenze del brano convivano armonicamente senza collidere tra di loro. L'obiettivo del mix è quindi quello di dare vita a un brano, fornendo valore aggiunto emotivo che coinvolga l'ascoltatore in modo viscerale. Per operare in senso correttivo ed emotivo quindi vengono utilizzati degli strumenti che agiscono sull'ampiezza dei segnali nel dominio della frequenza e nel dominio del tempo. Durante il corso verranno introdotti degli talk tools a disposizione dell'arsenale di un tecnico di mix, quali processori di dinamica, cioè il limiter e il compressore, gli equalizzatori, i distorsori e tutti gli effetti a linea di ritardo, come i delay, i riverberi, il chorus, il flanger e tutti gli altri. Per introdurre i concetti base, il software utilizzato nel corso è Ableton Live, che offre diverse possibilità creative di customizzazione per molteplici tipi di intervento diversi. Saranno quindi illustrati tutti i device che fanno da corredo alla suite di live volti alla gestione correttiva, creativa ed emotiva del mix nel contesto musicale elettronico e tutti i concetti appresi saranno applicabili su qualsiasi altra DAW. Una volta consolidati i concetti base, l'allievo verrà messo alla prova con un esercizio di mixing acustico e sarà valutato da un docente tutor che correggerà il mix alla fine con un video feedback. Infine, al termine del corso, lo studente avrà una sessione pratica one to one con un docente che lo affiancherà alla finalizzazione del mix della loro produzione. Vi aspetto a Fonderie Sonore per il corso di mixing. Grazie per la visione!